Grazie per avervi invitato qui a parlare. Che cosa fa un attore quando fa l'attore? Mentre ero lì che pensavo innovazione, marea di innovazione, e cercavo di mettere insieme i puntini, mi sono reso conto che nessuno veramente lo sa che cosa fa un attore. Noi nella vita, quando ci esprimiamo attraverso le parole, e le parole arrivano alla fine, prima ci sono le emozioni, le intuizioni, la rabbia, i sentimenti, che poi si fanno strada attraverso il nostro corpo e diventano parole. E noi nella vita siamo naturali quando ci esprimiamo. Invece gli attori fanno tutto questo percorso al contrario. A noi arrivano i copioni, scritti dai drammaturghi, dagli scrittori, ci arrivano solo le parole, è solo la punta dell'iceberg, c'è tutta una parte mancante che va ricostruita. E quindi l'attore comincia un viaggio incredibile alla scoperta e alla ricostruzione di tutto questo mondo. Un viaggio lungo che espone alla sofferenza, molte volte al dolore, alla gioia, all'impegno, al lavoro. Ed è un viaggio che viene fatto con l'unico strumento che noi abbiamo. Il musicista si concentra in un oggetto esterno, che poi, quello è un altro viaggio, lo contamina. Per noi il nostro strumento è questo, è quello del nostro corpo. Volenti o nolenti, con le cose belle, con le cose brutte del proprio corpo. Uno dei più grandi innovatori nell'arte della recitazione è stato un signore russo, si chiamava Stanislavski, che all'inizio del Novecento si pone un problema importantissimo. Cioè l'arte del recitare non è più adeguata ai tempi, si è sclerotizzata, viene ancora insegnato che l'attore sta in una posa, che l'attore declama, che recitare è cantare e che il sentimento arriva misteriosamente attraverso una ripetizione ossessiva. E invece lui pensa che non è così, si chiude in un laboratorio con degli attori e comincia a lavorare. E in effetti, scoprendo tante cose che io non vi spiegherò e sono molto tecniche, ma alla fine lui elabora un sistema per cui, dall'avvio a una rivoluzione copernicana, si può paragonare a una rivoluzione copernicana nel nostro ambito, pensate che gli allievi di questo signore attraversano l'oceano, arrivano in America e cominciano a fare dei laboratori e chi studia in quei laboratori sono i futuri creatori dell'actor studio o di centri di ricerca in America che avranno come allievi i più grandi attori che negli anni 60 rivoluzionano quest'arte, cioè James Dean, Marlon Brando e poi i vari Dustin Hoffman, De Niro. Quindi da questo signore russo nasce tutto. Perché lo cito? Perché il primo libro che mi hanno regalato quando stavo affacciandomi a questo lavoro e cominciavo a dire in giro che forse dagli studi a scuola, dai piccoli corsi di teatro, avevo voluto fare l'attore, mi regalano questo libro che si chiama Il lavoro dell'attore su se stesso, appunto, su se stessi come strumento. Una delle prime cose che mi colpì di questo libro fu una frase che diceva che nell'arte se non si va avanti si va indietro. Cioè che nel nostro lavoro non è possibile restare fermi, ma se si resta fermi inevitabilmente si peggiora, si va indietro. E questa cosa ho sempre cercato di capire fino in fondo il senso della cosa. E qua arriviamo al tema centrale, l'innovazione. Io racconterò l'innovazione su di me, me stesso come cavia, come corpo di attore, è l'unica cosa che posso fare. La spiegazione che mi sono data, o il senso che ho dato a queste parole, è che la mia arte è un'arte che celebra la bellezza di vivere nel presente. E il presente è ignoto. Il presente è un tempo, il tempo della nostra vita, che non è il passato, che non esiste più, che non è il futuro, che non esiste, ma che è l'essere assolutamente svegli in relazione, capaci di connettersi con gli altri. In fondo ci piace tantissimo andare a teatro, perché il teatro è il momento in cui tutti noi mettiamo da parte i cellulari, mettiamo da parte i nostri pensieri, le nostre stanchezze, eccetera, e tutti insieme guardiamo delle persone su un palcoscenico che danno vita a delle interazioni in quel momento. Cioè il teatro è davvero la più grande celebrazione quasi spirituale di quello che vuol dire vivere nel presente. E quindi per me questa frase di questo signore è stata un faro, una grande guida. Lo è stato anche in un momento della mia vita molto, molto difficile, perché io ho studiato qui un po' in dei piccoli corsi, però poi ho deciso che volevo veramente studiare bene, e sono andato a Roma in una scuola che si chiama Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Forse è una delle più alte scuole di formazione per quanto riguarda questo lavoro che ci sono in Italia. E lì ho lavorato per tre anni e quando sono uscito dalla scuola era una scuola per diventare attore di teatro, poi io sapevo che volevo fare cinema, il cinema mi piaceva veramente tantissimo, e fortunatamente sono riuscito attraverso diversi spettacoli, gavetta, lavori piccoli, lavori piccolissimi, ma quasi subito ad entrare in un giro bellissimo. Per una decina d'anni ho lavorato in film straordinari e bellissimi lavori in teatro, con alcuni dei più grandi registi italiani, un lavoro portava avanti l'altro, io ci mettevo il cuore, ci mettevo tutto me stesso, non l'ho mai sottovalutato il lavoro, però a un certo punto questo grande circo si è fermato. Non lavoravo più, incredibilmente. Magari andavo a dei provini e dicevano sì, però no, però no, però no, però no. A un certo punto ho cominciato a sprofondare come nelle sabbie mobili in una zona terribile in cui avevo paura di andare ai provini, vivevo l'ansia di una nuova proposta di un provino e ho cominciato a provare veramente una fortissima angoscia e di conseguenza ho cominciato a provare anche sentimenti molto negativi verso i miei colleghi, per esempio, di invidia oppure di rancore oppure di, come dire, prendersela con gli altri fuori di me, non capiscono niente, quello è un imbecile, ma è tutto così, perché ci sono i raccomandati, insomma, a generare tutta quella serie di sentimenti che penso ognuno conosce quando le cose non vanno bene e non sai che cosa fare. Lì mi ha salvato un incredibile spettacolo che avevo visto anni prima che era stato tratto da uno dei più famosi poemi indiani che si chiama Il Mahabharata che racconta la storia di questa famiglia di principi che a un certo punto si giocano il regno a dadi perché uno di loro viene preso da un demone che gli fa perdere il senno e comincia a giocare a dadi e perde tutto il regno e quindi questa famiglia è costretta ad andare in esilio, in esilio in una foresta e accedere il regno a questi cugini. Ma l'esilio diventa un'occasione di opportunità, è sempre un Dio, questa volta un Dio che dà buoni consigli a suggerire questo e quindi questi dodici anni di esilio nella foresta diventano per questa famiglia l'occasione per conoscersi, per scoprire chi si è. Avevo visto questo lavoro, era un adattamento teatrale di uno dei più grandi uomini di teatro di questo secolo che si chiama Peter Brook che è morto da poco che aveva fatto uno spettacolo meraviglioso che non aveva avuto l'occasione di vedere dal vivo, l'avevo visto registrato ma l'impatto era arrivato forte lo stesso e quindi dico a me stesso l'esilio tutto sommato non è una cosa brutta. Sapete il nostro lavoro è sempre condizionato dall'ansia di essere visti, di essere visibili, di essere sulla cresta dell'onda ma le onde come arrivano vanno via e quando l'onda finisce poi c'è un tempo prima che arrivi un'onda nuova. E quindi decido di andare in esilio alla scoperta di quello che io potevo essere al di là di questo rancore, di questo confronto con gli altri. Quelli erano le potenzialità che potevo esprimere e che ancora non avevo espresso. E cosa si fa in questi casi? Si torna studenti, si ritorna a studiare e quindi trovo un maestro, un maestro molto bravo che mi avevano consigliato, mi rimetto a fare laboratori insieme ad allievi attori, a gente che non sapeva neanche se voleva essere un attore o un'attrice e ricomincio a studiare. E a poco a poco, attraverso questo percorso, e come se a un certo punto ricomincio a vedere la luce, vado a cercare spettacoli marginali, piccoli film, piccoli ruoli che però mi danno soddisfazione e mi permettono di esprimere cose diverse. E da lì, nel giro di pochi anni, ricomincia, attraverso la forza di questo mito che avevo avuto la fortuna di aver conosciuto, il mito di questa famiglia e di questo poema indiano, ricomincia il lavoro, ricomincio a fare lavori di tutti i tipi, cambiare, mi ritrovo a fare, nell'arco dello stesso anno, un frate francescano, poi un serial killer, poi un terribile assassino, poi un giovane padre. Cioè, i ruoli ricominciano a moltiplicarsi e a darmi una grande soddisfazione. E riparte una consapevolezza molto, ma molto più grande del mio lavoro e degli strumenti del mio lavoro. In sostanza, sono riuscito attraverso questo viaggio a compiere dentro di me, cioè nello strumento che ho io, cioè me stesso, un percorso di innovazione, ma direi anche di rinnovamento, ma le due parole viaggiano molto vicine in questo caso. Avendo scoperto che nella mia arte, e sono molto felice che in quel grafico l'arte sta ancora sopra, sulla cima della montagna, che è questa marea dell'intelligenza artificiale che sale e che sommerge tutto e che è un'immagine, da una parte, come si diceva prima, che ci può ricollegare al rinascimento, ma dall'altra che giustamente ci provoca un'angoscia. Ma sono molto contento che quest'arte sia sulla cima della montagna, perché l'arte, essendo forse quello che più di tutto incarna l'umano, cioè l'essenza dello spirito umano, la parte più alta è lo spirito umano, e sta sulla cima della montagna perché ci collega a quello che per noi è la dimensione spirituale, che non a caso sta in alto. Che l'arte ha un piede nella tradizione e quindi nel passato, e il passato non come legame a qualcosa di antico, ma legato al mito, cioè alla capacità di leggere continuamente quello che siamo, e l'altro piede ce l'ha nel vuoto. E questo vuoto, come dicevo prima, è il presente, il presente di tutto quello che può succedere, di tutto quello che è sconosciuto, di tutto quello che è discomfort, ma per questo una grande potenzialità. Questo è stato il mio viaggio, che non è finito, che si rinnova tutti i giorni, perché il mio lavoro mi dà questo lusso di vivere in una zona che non è comfort, di vivere in una zona in cui ogni giorno ci si sveglia e si dice grazie, sono sveglio, sono presente, che cosa c'è nella vita oggi per me. E in questo, l'essere siciliano, l'essere nato in questi mari, io mi sono sempre detto che per me è stata una grande fortuna, perché io credo che la nostra terra sia una terra che, per la sua storia, che l'ha esposta al cambiamento continuo per adeguarsi a tutti questi nuovi popoli che arrivavano. Non sono solo dominazioni, sono popoli, sono persone che portano dentro culture, aggressività, poesia, arte, e quindi questa nostra continua mutazione ci ha fatto nascere in una terra che ce lo trasmette, nel latte che ciucciamo, la capacità di cambiare, di adeguarsi. E siamo in una terra in cui si confondono la storia con il mito, con la leggenda, e quindi il fatto, la storia, quello che noi viviamo è sempre anche carico di una forma che può portare da una parte alla tragedia, da una parte alla commedia, ma che comunque è sempre una vita vissuta in un modo più espanso, più grande. Credo che questa cosa ce la porti, la nostra terra, insieme alla forza purificatrice dell'acqua di mare che ci bagna, ci pulisce, ci asciuga, ci secca, ci purifica e ci fa ogni volta ripartire. Questo è quello che ho scoperto della mia storia e sono veramente felice di poterlo condividere con voi oggi, per cui grazie di questo invito. Grazie a tutti.